Molto bella questa ciascolata Maria Sola, mi sto divertendo davvero tanto Sono contenta che ti piace, tu so Ma non hai freddo con questo maglione? È finto, non è lana questa? No, no, ma questa è in vera lana Merino, scara, non ho freddo Ma poi questa tutta si usava negli anni 40, ma come ti sei conciata? Qui te va perché la devo buttare, scusami Senti, che ne dici di andare a fare un po' di shopping, tu so? Dai, andiamo Va bene, andiamo Va bene, prendiamo la funivia No, io vado a piedi, cara, tu vai pure la funivia, va bene Ma come tu so? Vabbè, vado la scuola Arrivo subito Ciao, Mario Sola, arrivo Devo pagare anche i soldi della funivia Assolutamente Ora, beviamo un caffè, scappiamo a fare il shopping, va bene Vuoi un caffè? No, non lo voglio, caro Mi fa un caffè, per favore Ciao, tesoro, bella Mi dice quanto è? Va bene Oddio, è vero, ho dimenticato il borsello con le monete Tesoro, hai qualche cosa da postare? Ci guardo Scusami, ma adesso a volte A volte mi si inceppa il meccanismo Tesoro, come questa borse degli anni 50, perché non la cambi? Ho capito, ma perché la devo buttare è ancora buona Anche la cassa va bene Sai che non ho monete, non ho niente Ho lasciato tutto Ah, va bene Mi scusi, me lo lascio da pagare Che benvenuto Non si può pagare un caffè Sì Ragazzi Grazie Grazie.